ciao caro imprenditore o libero professionista sono gabriele cremiti questo piccolo video è dedicato proprio per te se la tua azienda sta perdendo parte dei clienti acquisiti in passato se ti sei reso conto che è sempre più difficile e costoso acquisire nuovi clienti ma sai che molte aziende stanno aumentando i loro profitti e loro clienti proprio grazie al web marketing ecco allora come anche tu puoi trovare nuovi clienti tutte le settimane e soprattutto come tenere fidelizzati i tuoi clienti storici senza paura di poterli mai perdere in futuro pertanto nel tuo interesse ti invito adesso a fare due cose primo a leggere con vivo interesse tutto ciò che è esposto in questa pagina perché potrebbe dipendere proprio il tuo futuro economico secondo a prenotare subito il tuo posto al corso speed marketing online il corso che cambierà per sempre il tuo modo di fare impresa sul web ti aspetto in sala un caro saluto da gabriele cremiti a presto